... Mister Fanello, seconda sconvitta della stagione. Dopo Soveria Mannelli, oggi stop qui allo Stefano Rizzo. È una partita dove avete sofferto, avete cercato poi di raddrizzare, però non ci siete riusciti. È una sconvitta che comunque non pregiudica questo campionato? Questo lo sapremo a fine campionato, se lo pregiudica. È una sconvitta che comunque, guardando le occasioni create, non è meritata. Il risultato dice che la Rossanese ha vinto 1-0, quindi lo accettiamo. Si fa i complimenti alla scuola avversaria e cerchiamo di migliorare quello che oggi di buono non è stato fatto. Soprattutto magari negli ultimi metri. Qualche ricominazione? No, non è solo ricominazione. Quando si va a giocare una partita si può vincere, perdere o pareggiare. Forse dobbiamo essere più cattivi sotto porta e magari un po' più decisi nell'azione che abbiamo preso gol, perché è stata una leggerezza difensiva. Un po' di nervosismo in campo dovuto a che cosa secondo voi? Ma quando c'è una posta in palio importante da raggiungere, credo che la tensione raggiunga livelli abbastanza alti. Poi sono questioni di campo che poi finiscono subito, come avete visto nello spogliatoio, con abbracci, con gli avversari, perché è giusto così. Queste sono di campo che finiscono in rettangolo verde. Dobbiamo essere bravi e continuare a essere concentrati, perché non dobbiamo pensare che sia tutto finito. Comunque ci sono sette punti di distacco, sembra comunque un margine ancora rassicurante per voi. Sì, però lo stiamo dicendo già da ogni giorno, da sabato scorso, e abbiamo perso già tre punti. Quindi cominciamo a dirlo di meno e a pensare di farlo aumentare questo distacco. Mister Aloisi, due portieri fuori, oggi gioca il terzo, due difensori centrali, tre difensori centrali fuori, però siete riusciti a battere il Sambiase. Qual è il segreto di questa squadra? Buonasera, siamo stati fortunati, ha perso gli scherzi, la squadra non ha mollato, ha triplicato le forze, si è riuscita a colmare ogni buco, ogni varco, e poi con un po' di fortuna siamo riusciti a portare a casa questa vittoria. C'è da fare i complimenti alla squadra perché sono molto legati a questa maglia. Hai citato poco fa i due portieri fuori, quindi c'è l'esordio di Scarlato. Ha veramente dimostrato quanto è legato a questa maglia, da agosto che sta con noi. Ha trovato pochissimo spazio, se non due partite, due spezzone di partito. Oggi è arrivato il suo momento e ci ha regalato questa gioia perché oltre alla squadra gli va dato un grande merito a Francesco, visto le parate che ha fatto e non ha sbagliato quasi nulla. Per quanto riguarda la squadra, una squadra con imbottita di giovani, con 2, 3, 97, 98, che sono all'uscita dagli anni Ander, non si poteva sperare chissà cosa, però alla fine siamo riusciti a portare a casa questa vittoria. Abbiamo di nuovo affrontato la partita con 4 Ander in campo, un 2002 dal primo tempo. Più di questi numeri non so cosa dire stasera, quindi mi godo questa vittoria. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, faccio i complimenti anche al Sampiase perché penso che non ci saranno problemi da qui alla fine per vincere il campionato. Un'ottima squadra, una grande squadra, però oggi l'ha spuntata la rossanese e sono felice per questo. Grazie.